Dopo il primo anno di Oltre il Blu siamo onorati di poter rifinanziare questo progetto, è stato entusiasmante il risultato, le 16 famiglie che hanno soffruito di questo progetto sono state molto soddisfatte nei risultati, quindi siamo noi onorati di poter dare la possibilità a questo progetto di svilupparsi per un altro anno. Grazie a Tecnico Il Cuore, grazie al cuore del nostro Presidente, questo sarà possibile per un altro anno.